La vita è come un libro e chi non viaggia ne legge solo una pagina. È la filosofia sposata dal team piacentino Raid4Aid, un gruppo di amici motociclisti che da anni viaggiano in Africa e non solo per coniugare avventura e solidarietà. La nuova missione alle porte, l'8 di novembre, il loro aereo decollerà e questa volta le tappe saranno raccontate dai protagonisti su www.liberta.it. A guidare la compagnia rigorosamente sulle due ruote è Don Silvio. La nostra associazione si occupa di sostenere progetti in luoghi del mondo un po' in difficoltà che raggiungiamo sempre solo in moto. Siamo stati in Terra Santa, a Betlemme, siamo stati in Africa, a Muerie, a Mozambico. Quest'anno la finalità è di arrivare, lo scopo del viaggio è arrivare alla periferia di Lima, Waikan, dove sosteneremo un progetto già avviato di sostegno soprattutto alle famiglie ma in particolare poi un asilo, un asilo che darà la possibilità alle famiglie di poter avere tempo, imparare lavoro, rifarsi o comunque pensare a un futuro, questo sicuramente. In quanti siete e quando partirete? Noi partiremo l'8 di novembre in aereo, raggiungeremo le moto che abbiamo già spedito un mese fa e siamo in 8, quindi 8 moto di cui 2 con moglie presso.